I carabinieri della compagnia di Castrovillari hanno tratto in arresto il rapinatore seriale. Si tratterebbe di un uomo di 35 anni, originario di Castanaloionio. La prima rapina messa a segno nella città del Pollino il 25 gennaio, in danno di una parafarmacia, per poi fermarsi per circa due mesi, riprendendo successivamente colpendo lo stesso territorio con altri episodi di rapina del tutto analoghi tra loro. Un soggetto solitario, con il volto coperto da passamontagne e cappuccio, ma soprattutto armato di pistola, che faceva irruzione all'interno di esercizi commerciali in concomitanza dell'orario di chiusura serale, impossessandosi dell'incasso. Un'escalation di rapine che avevano creato particolare allarme nel territorio, percepito immediatamente dalla Procura della Repubblica e dei Carabinieri, che proprio per arginare gli incresciosi eventi, hanno prontamente attivato un piano coordinato di azione. Da un lato sotto il profilo preventivo, con l'impiego di numerose pattuglie, che proprio nelle ore serali perlustravano il centro castrovillarese e le varie attività commerciali. Dall'altro, sotto il diretto coordinamento del dottor Alessandro D'Alessio, procuratore capo della Procura della Repubblica di Castrovillari, i carabinieri del luogo operativo analizzavano accuratamente le immagini acquisite dagli innumerevoli sistemi di videosorveglianza per ricostruire i vari eventi e individuare l'autore. Partendo dalla descrizione fornita dalle vittime degli eventi, i carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno dapprima individuato la macchina che il soggetto utilizzava da Cassano all'Oionio per raggiungere le attività commerciali di Castrovillari. A seguire, con la preziosa collaborazione dei militari della Compagnia di Castano all'Oionio, sono poi riusciti a dare un nome al reale utilizzatore di quel veicolo. Successivamente, confrontando i vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere acquisite a seguito delle rapine, sono riuscite ad arrivare all'uomo che al termine delle formalità è stato condotto presso la locale casa circondariale.